ehi! so che sono il video che stavi cercando che stavi aspettando io oggi ti prometto che ti farò dormire dimenticando ogni problema che ti affligge ti devi solo fidare di me oggi ti farò addormentare con i miei mouse e tu mi sarai grato per questo perchè dormirai bene ci penso io a te ci penso io a te vedete 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 e 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 no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no oi te lo chai o APIs o-o-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o clic 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 bec ciao hooo 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 ho e te te come, 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 come secondo me all'altra tutto tutto tutto, tutto tutto Sì, sì. Sì, sì. a tutti i nostri spettatori lì, 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 lì. oi 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 thick thick l'ded l'ded e 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 eeeh un po' di, di, di no 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. eeeh eeeh di te te bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì.